Uomini e donne Uomini e donne, è nato il secondo figlio di Alessia e Aldo Palmeri Aldo e Alessia Cammarota di Uomini e donne sono diventati genitori. Poche ore fa l'ex tronista Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono diventati genitori per la seconda volta. Direttamente dalla dottoressa Rosalia Anna Di Fazio, medico-chirurgo specializzata in ginecologia ed ostetricia, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, tanti auguri ad Aldo e Alessia per il loro secondo bimbo. La notizia ha fatto immediatamente il giro dei social e sono tanti gli auguri che stanno ricevendo da parte dei loro fan. La storia d'amore tra Alessia Cammarota e Aldo Palmeri è nata negli studi di Uomini e donne, il talk show sentimentale condotto dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi, la coppia è andata a vivere a Roma da subito e si occupano del loro locale, il Cape Up di Catania. I due, dopo un periodo di crisi che li ha colpiti, sono tornati insieme e continuano ad amarsi, infatti hanno deciso di allargare la famiglia dando un fratellino a Niccolò, il loro primo figlio. Uomini e donne, è nato il secondo figlio di Aldo Palmeri e Alessia. Una delle coppie più amate di Uomini e donne è quella formata dall'ex tronista Aldo Palmeri e la sua scelta Alessia Cammarota, oggi sono diventati per la seconda volta genitori. Il nome del nascituro ancora non si sa, ma sicuramente verrà rivelato dalla coppia pubblicamente sui social network, proprio come fecero alla nascita di Niccolò, il loro primo genito nato il 17 giugno 2015, dopo mezzanotte. In queste ultime ore la coppia sta raccogliendo su tutti i social centinaia e centinaia di auguri per il lieto evento. Ricordiamo che Alessia e Aldo hanno vissuto una dura crisi durata diversi mesi, su cui l'amore è riuscito a vincere, combattendo colpi di testa, i due sono stati ospiti l'anno scorso nello studio di Uomini e Donni dove si sono conosciuti e scelti, e l'ex tronista Aldo Palmeri era deciso a mettere la parola fine al loro matrimonio, poiché aveva intrapreso una relazione con un'altra donna siciliana. Alessia Cammarota non ha gettato per niente la spugna, ha resistito, ha combattuto ed è riuscita dopo qualche mese a riportare a casa il marito e a riunire la sua famiglia. Alessia è risultata una vincente, nonostante tutto. La coppia ha poi deciso di allargare la sua famiglia e avere un secondo figlio, poche ore fa è nato il secondo genito. Auguri ad Aldo, Alessia e al piccolo Niccolo. Auguri ad Aldo, Alessia e al piccolo. Auguri ad Aldo, Alessia e al piccolo.